buonasera a tutti grazie per esservi iscritti al webinar di questa sera vi leggo il disclaimer i contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti e non da tic mil e hanno carattere puramente educativo e non costituiscono nessun incentivo di investimento chiunque intraprenda questa attività lo fa per sua spontanea decisione assumendosene tutti i rischi di conseguenza gli autori e gli autori e tic mil non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento presi dai partecipanti e degli iscritti e declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di tic mil a meno che non sia specificato l'avvertenza sul rischio il trading di prodotti finanziari in leva comporta un alto grado di rischio non adatto a tutti gli investitori le perdite possono eccedere l'investimento iniziale assicurarsi di comprendere appieno i rischi e di curare attentamente la gestione del rischio una breve presentazione di me io sono giuseppe cericola country manager di tic mil trader privato dal 2008 sul forex esclusivamente opero diciamo in real su euro dollaro con me questa sera ci sarà francesco cerulo di vision forex francesco se vuoi presentarti tu sì beh poco da dire buonasera innanzitutto a tutti quanti ringrazio come sempre tutti gli utenti che si seguono questa sera in questo webinar nulla da dire faccio parte della comune di vision forex da ormai quasi due anni ci occupiamo di tantissime attività scrivo un po su tantissimi portali io sono nato come trader privato indipendente e ormai varco la soia del decennio nonostante non abbia non abbia 50 anni però ecco mi sono sempre appassionato di trading e da lì poi ho messo a disposizione e vado avanti quel che è il progetto vision forex per condividere ovviamente la mia esperienza le mie visioni e le mie magari piccole nozioni che mi porto che mi porto dietro ottimo francesco prima di entrare nel vivo del webinar faccio una breve presentazione del broker che rappresento vi elenco le caratteristiche principali di tic mil che sono broker non di l'index con le commissioni tra le più basse del settore spread a partire da zero una forte regolamentazione della fca uk con fondi custoditi in condi segregati e assicurati fino a 50.000 sterline non ci sono limitazioni sui profitti e tutte le strategie di trading sono permesse non ci sono recuote e l'ordine viene eseguito al miglior prezzo di mercato disponibile quindi c'è la possibilità anche di avere slippage positivi la velocità di esecuzione è in media di zero un secondo ed è garantita da oltre dieci server sparsi per il globo ci sono più di 80 strumenti di trading e da poco abbiamo anche inserito il bitcoin strumenti di trading altri come auto chartist vps e il one click trading e la demo è illimitata non ci sono costi su prelievi e depositi e c'è un interessante partnership attraverso il programma di introducing broker per i clienti italiani abbiamo anche pensato un'assistenza sulla dichiarazione del capital gain fornita da uno studio commercialista esterno che applica un sostanzioso sconto sulle tariffe per qualsiasi info potete contattare direttamente il commercialista all'email dot punto marco di chiocciolagmail.com francesco se puoi passare alla successiva questi sono i server sparsi nel mondo quindi come dicevo sono più di 10 ok anche per sulla prossima slide andiamo a vedere l'offerta del spread e di tic mil rispetto ad altri broker questa è una fonte esterna non quindi una fonte interna di tic mil ma sul noto sito di my fx book noterete come gli spread e incluse le commissioni siano tra i più bassi rispetto alla maggior parte dei competitors nella successiva slide invece abbiamo un'altra comparazione dei costi di training mensili sul piano mensili e tic mil è terza dietro altri due competitor di grossissimo livello mi sembra che ce ne siano un altro paio sul broker francesco di slide ok questa è molto fresca perché abbiamo fatto nuovi volumi di trading proprio a settembre superando come vedete dalla dalle immagini 74 billions di dollari nel mese di settembre come volume di trading e che altro dire sul broker potete provarlo con un conto di benvenuto andando proprio sul sito di tic mil nella sezione promozioni c'è la possibilità di scaricare questo conto di benvenuto con 30 dollari di deposito offerti da tic mil e potete testare le condizioni in reale per qualsiasi altra informazione potete contattarmi all'email giuseppe chiocciola tic mil punto co punto uk io ho terminato con la presentazione vedo un po di domande sul sul broker le leggo un attimo e poi passiamo entriamo nel vivo del del webinar sì serghei la vps diciamo che è in forte sconto con il menti per cento con una società esterna che offre dei pacchetti sulle vps quindi poi sul sito ci sono tutte le informazioni comunque di base il menti per cento di sconto e nicola nicola mi chiede se facciamo da sostituto un'imposta non proprio da sostituto un'imposta ma offriamo appunto una consulenza sul sul regime dichiarativo il successivo webinar che faremo sarà proprio su questo aspetto perché vi faremo vedere un po di differenze tra il dichiarativo e l'amministrato avremo proprio il dottore commercialista che ci spiegherà queste differenze che sono molto importanti proprio per 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 la fiscalità del trader io ho terminato la presentazione del broker quindi passerei la parola a francesco che ci spiegherà appunto questo nuovo metodo delle trend line sì allora io ti chiedo assistenza per le domande perché non le vedo quindi anche dal posto di goto non le vedo quindi poi fammele pure te interrompermi nel caso ci siano delle domande assolutamente magari non mi riesce a seguirmi immediatamente allora sì nuovo utilizzo dei trend line non ci addentriamo in cose complicate noi division forex crediamo nella semplicità quindi sicuramente è un metodo a mio modesto avviso abbastanza semplice unisce alcuni concetti che fanno parte del mondo del trading fattore tempo fattore prezzo molto spesso si sente parlare o dell'uno o dell'altro e noi abbiamo lavorato un po nei mesi passati ormai questa questa tecnica tra l'altro ci accompagna quasi da un anno circa perché ci abbiamo lavorato in backtest almeno un semestre poi piano piano ovviamente vedendo che ci dava dei buoni risultati siamo andati anche quindi è con noi da da un po di tempo la premessa che voglio fare in questo in questo momento è appunto quello che andremo a trattare di seguito è una parte molto importante dell'analisi tecnica perché ovviamente ci baseremo su quello io darò un po per scontato alcuni concetti perché non parto dalle basi questo è credo che sia abbastanza ovvio quindi chiedo venia se qualcuno ovviamente vorrà mi potrà interrompere chiedendo chiedendo ovviamente chiarimenti non ci perderò troppo tempo perché voglio soprattutto passarvi questo concetto che secondo me è piuttosto piuttosto interessante allora però il concetto base di trendline quello sicuramente ve lo devo dare in analisi tecnica la trendline o linea di tendenza è una retta che in un grafico unisce almeno due punti di massimo o di minimo io mi fermo qua perché vorrei veramente concentrarmi su questo pesando le parole unisce almeno due punti le trendline sui grafici se ne possono tracciare mille ok noi ci mettiamo dopo con la piattaforma di tick me ci mettiamo lì apriamo un grafico qualsiasi time frame si prenda chiedo magari al primo utente una trendline a giuseppe gliene chiede un'altra io ne traccio una terza e così via potremmo andare avanti all'infinito e purtroppo sempre notato nell'ultimo soprattutto nell'ultimo periodo della mia vita quando ho iniziato a far parte di vision forex che ho più visibilità e ci arrivano tantissime domande a cui rispondiamo che molte persone anche se ci mandano immagini di analisi e tutto la trendline la uniscono semplicemente tirando la linea fra due punti due minimi o due massimi però magari facendo una piccola un pochino di più di attenzione possiamo vedere che spostando leggermente una trendline perché magari quella trendline messa 10 ppi più in basso unisce un terzo punto o magari ne prende anche un quarto sicuramente quella trendline ha una valenza maggiore quindi primo step cerchiamo di implementare al pieno la definizione trendline la trendline unisce almeno due punti perché il concetto classico una retta viene tracciata in questo modo però se ce ne sono tre quattro cinque è ancora meglio solitamente quindi la trendline è utilizzata per evidenziare una certa tendenza del mercato si sa ci sono di tre tipi la tendenza rialzista magari congiungendo due minimi crescenti in questo caso oppure la tendenza di bassista che va magari più massimi decrescenti o c'è anche una terza la terza quando siamo in trading range in cui il mercato non ha una direzionalità rialzista o ribassista ma si muove in orizzontale tirando una linea appunto in in grado zero presente abbiamo una linea di galleggiamento dei prezzi e questa definizione giusto per per farvi vedere quello che ho trovato è da wikipedia non è trovata nessun libro di analisi tecnica quindi sono partito proprio dalla base credo che tutti gli utenti possano andare su wikipedia e cercare questa definizione bevi sceni storici è giusto farli padre della teoria legata alle trendline e non solo è Charles Dow quest'ultimo teorizzò per primo che le trendline sui prezzi degli strumenti finanziari sono uno strumento piuttosto importante per l'analisi grafica del prezzo non solo la sua teoria afferma che il mercato si muove seguendo delle tendenze e che c'è quindi una correlazione alta fra prezzi e asse temporale ed è proprio su questo e lo capirete ovviamente alla fine di questa oretta passi passeremo insieme come noi siamo andati a lavorare proprio su questi due concetti che derivano dalla definizione molto molto basilare che sta appunto all'inizio della teoria legata all'analisi tecnica e poi alle trendline stesse. Anche qua molto rapidamente teoria di Dow secondo ovviamente tale teoria esistono tre tipi di trend il primario cioè quello che dà la direzione di lungo periodo sulla quale si muovono i prezzi solitamente Charles Dow legava questo periodo a più di un anno un trend intermedio che solitamente può essere contro la direzione del trend primario quindi può avere una direzione opposta e che ha una durata variabile fra alcune settimane e alcuni mesi ovvio non ci spostiamo oltre la metà magari andiamo dalle 3 a 6 mesi giusto per farvi per farvi un'idea e poi abbiamo addirittura dei trend ancora più inferiori cioè i trend minori che si possono muovere ovviamente in nuovi movimenti opposti che possono sicuramente andare contro in maniera opposta al trend principale e questi possono essere appunto compresi fra due giorni e due settimane quindi ci sono state nella teoria di Dow queste tre specifiche definizioni e giusto per darvi anche qua una cosa abbastanza pratica un'idea pratica se io parlo di intraday o meglio per l'intraday possiamo parlare in questa maniera trend primario è quello che ci dà il grafico daily il trend intermedio è quello che possiamo trovare su un grafico orario il trend minore è quello che possiamo trovare su un grafico m5 cioè sul 5 minuti questo credo che sia abbastanza introduttivo a tutto il discorso che faremo tra poco ovvio che seguendo sempre la teoria di Dow i prezzi di borsa o meglio lui diceva i prezzi di borsa non si muovono i movimenti lineari procedono un po a caso ma comunque sia seguono la legge della domanda dell'offerta e quello sarà sempre così non cambierà mai questa legge che è definitiva almeno per questo nostro presente poi nel futuro magari dovrebbe cambiare tantissimo nel nostro mondo ma credo che per quanto riguarda sia le nostre vite comuni che per quanto riguarda i mercati finanziari tutti i prezzi siano formati dall'incontro fra la domanda e l'offerta proprio per questo i grafici che cosa vanno a formare vanno a formare una serie di onde anche qua io ho usato il termine onde non perché mi voglia riferire specificatamente a qualcosa che possa essere legato perché qualcuno per traversare la mano dirà parla delle onde di Elliot o di un'altra onda non lo so no semplicemente per l'idea basilare di onda come movimento tale movimento genererà dei massimi e dei minimi che caratterizzeranno appunto quello che si diceva prima il trend una caratteristica fondamentale dell'analisi tecnica poi qual è è quella di iniziare di individuare supporti resistenze cioè dei punti di svolta dei prezzi essi possono essere dinamici o statici possono avere direzione ascendente o discendente e possono essere più o meno importanti a seconda del time frame di riferimento a cui appunto facciamo l'analisi stessa solitamente quando vogliamo rilevare un trend è utile unire almeno come vi dicevo prima due punti di minimo crescenti se si vuole individuare un trend rialzista oppure dei massimi decrescenti quando vogliamo diciamo ricalcare l'andamento di un trend ribassista e qua vi ricordo un'ultima cosa credo abbiate già capito la trend line è tanto più forte quanto più dura nel tempo e quanto più numerosi sono i punti di contatto questa è una legge che secondo me molti ahimè tralasciano e purtroppo da lì si vede già una serie di errori secondo me che viene fatta durante la fase di analisi in cui poi non vengono trovati effettivamente dei punti importanti sul grafico e a cui soprattutto prende riferimento per poi posizionarci esempio abbastanza semplice qui vedete una sorta di di trend rialzista dove vado un pochino a individuare vari punti importanti che sono quelli appunto che vanno a caratterizzare la trend line e così via vedete la tendenza in questo caso è rialzista e io qua un po' simpaticamente chiamo queste linee blu o meglio mi faccio la domanda che cosa sono bene sono queste trend line viste nella maniera più classica possibile dell'analisi ok andiamo a definirla nuovamente questa trend line lo sapete unisce due o più punti mi raccomando se già interpretate al cento per cento la definizione sicuramente riuscirete meglio a comprendere i movimenti dei prezzi giusto per accendere un pochino il tutto non essere così troppo noioso nel parlare nel riparlare in maniera ruota libera per i prossimi 40 minuti vi dico ve l'ho già detto in precedenza molti tirano due tirano una riga unendo due punti allora mi raccomando cento per cento della definizione due più punti e vi faccio la domanda provocatoria secondo voi cosa significa una frase del genere fatevi la domanda e date una risposta ogni qualvolta vi trovate davanti a un grafico e vogliate avere l'intenzione di tracciare uno studio grafico su di esso a me qua mi viene in mente una esperienza mia personale io ho studiato l'analisi tecnica attraverso persone ovviamente che ne sapevano più di me e una volta ad un incontro una fiera italiana la più importante insomma l'itf di rimini che si tiene ogni anno tra cui c'era anche ticmil questo la scorsa edizione e io mi ricorderò lì e parlavo con questo mio insegnante e si parlava appunto di trendline e c'era stata una battuta mi fa vedi francesco se adesso ci mettiamo qua fermiamo 20 persone e gli chiediamo a tutti quanti di iniziare a tracciare trendline sul grafico non finiamo neanche per stasera cena e come vi scrivo qua era mattina questo perché perché moltissimi vedono soltanto questi due fatidici punti e da lì partono iniziano a tracciare trend a caso e purtroppo viene da dire a caso scusate ma è così quindi cerchiamo di essere molto molto critici su quello che facciamo perché sicuramente questo potrà dare una svolta al vostro modo di operare già facendo questo piccolo accorgimento in più allora abbiamo parlato di trend e qui vi voglio risottolineare un pochino il secondo principio di dao il quale indica che i prezzi si muovono non si scusate non si muove in maniera casuale ma si muovono secondo un trend quindi un movimento ben definito che resta in voga e resta in essere fino a quando non si presenta un segnale di inversione poi qua vado avanti spiegando ovviamente che un trend di mercato va ad indicare la tendenza dei prezzi l'elemento o meglio il mantra che si sempre che si sente sempre dire è quello di cavalcare sto benedetto trend il cavalcare il trend sarà l'elemento che determinerà possibilmente l'esito positivo di un'operazione è quello che sta alla base di molte strategie di trading eccetera 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 questa sera quello che vi farò vedere comunque sia è un modo di analizzare il grafico è un modo di eventualmente mettere giù una strategia trend follower non andiamo a cercare di combattere il mercato in questo secondo me già un altro passettino avanti che bisogna fare esempio se noi andiamo a prendere anzi colgono colgo un la palla al balzo e qua giuseppe ti tiro in ballo se vuoi perché è molto bello quello pubblici pubblichi spesso anche sui social in cui fai vedere come sono posizionati trader su alcuni strumenti finanziari io mi ricordo perché mi è proprio balzata alla mente come ci siano stati moltissimi retail che sono posizionati short da aprile ad agosto su euro dollaro esatto esatto è questo un po quello che si fa bene infatti sì è il problema un po dei dei trader io vedo anche comunque con i miei clienti che hanno il diciamo tra virgolette il brutto vizio di andare spesso contro trend di non usare gli stop e quindi questo poi innesca magari dei meccanismi dove appunto ti trovi sempre contro trend e sei magari anche portato a martingalare le posizioni per recuperare il loss è proprio su quello che dicevi tu da dal 19 aprile in concomitanza con le elezioni francesi che i retail sono short su euro dollaro con punte di oltre l'ottanta per cento e quindi e quindi dal 19 aprile se non sbaglio ad oggi l'euro dollaro ha fatto più di dieci figure però in long esatto esatto e quindi è proprio su questo che già insomma io vi sto portando passo per passo a quello che poi sarà l'effettiva applicazione di quella che di quello che sono queste queste nuovo concetto di possibile utilizzo delle trend line però mi piaceva e ora mi è venuta in mente proprio in diretta non me l'ero proprio la palla al balzo è proprio questo cioè non ci mettiamo lì a dire che il mercato è troppo alto ok va venduto oppure troppo basso da comprato cerchiamo sempre soltanto di seguire quello che fa il prezzo quello ci dirà o meglio ci potrà dire nel caso entriamo in posizione quanto abbiamo fatto di buono o quanto eventualmente abbiamo fatto di sbagliato è un po buffa la cosa qua non sto a ripetere quello che c'è scritto qua perché è quello che vi sto dicendo quindi vado avanti perché voglio arrivare al al nocello della questione però insomma per chi ci segue ora come come community insomma anch'io e il collega rocca salvo molto spesso nell'analisi della domenica ci pizzichiamo un pochino anche sul mercato americano perché appunto i prezzi dicono una cosa si sale sempre effettivamente si sale ormai da da dieci anni no da otto anni perché i minimi sono stati fatti a marzo 2009 siamo a ottobre 2017 e a parte credo un paio di fasi di lateralità di flag laterali non c'è mai stata una inversione importante uptrend qua vi faccio vedere un pochino nel dettaglio come deve essere fatto un trend rialzista secondo la teoria e secondo le definizioni di dao la cosa importante è che se volete implementare la definizione stessa il punto 5 deve essere maggiore del punto 2 questo è quello che dice la teoria ovvio non troviamo sempre un grafico del genere però se lo troviamo sicuramente è un uptrend ok stessa cosa la parte opposta da un trend è quando è fatto in questa maniera quindi sempre soliti 1 2 3 4 5 come punti ma fate bene attenzione che se appunto riuscite a trovare un grafico e quindi dei prezzi fatti così punto 2 punto 5 in questo caso il punto 2 deve essere maggiore del punto 5 maggiore come quotazione ovviamente l'ultimo trend e qua ve lo semplifico ovviamente il trading range e simpaticamente ci metto tre punti interrogativi bene fino ad ora abbiamo parlato di trend line dinamiche chiudo la prima parte che è quella dell'analisi classica visto che siamo quasi al giro di boa del di questo appuntamento facendo un pochino di ripasso anche per quanto riguarda finché utilizziamo le trend line classiche sì abbiamo parlato di quelle dinamiche ma ci sono anche quelle statiche cioè la parte statica sono quelle classiche linee orizzontali su cui il prezzo nel passato ha svolto o ha descritto solitamente delle inversioni di trend legge fondamentale è che una volta che una resistenza è rotta successivamente diventerà supporto un supporto una volta breccato al ritesto sarà una resistenza quindi già secondo me ripassare queste due o tre principi apre un pochino di più la mente quindi riassumo il tutto trend line fino adesso abbiamo visto le dinamiche e le statiche non c'è niente di particolare se io vado ad analizzare un grafico quello fatto è abbastanza fresco questo grafico perché è di oggi questo è il grafico del del dax dax che vedete per esempio qua aveva una piccolo trend di breve periodo è un time frame daily quello selezionato quindi ha avuto credo che lo sappiate tutti da circa metà giugno a finire sul finire d'agosto una fase piuttosto importante se così vogliamo dirla di correzione all'interno di un trend di medio lungo periodo rialzista però utilizzando le trend line classiche io posso fare uno studio del genere cioè iniziare a tracciarmi alcuni livelli magari l'11.910 circa come possibile supporto statico magari un riferimento sempre statico a 12.550 circa e poi le resistenze o meglio l'area di resistenza che più o meno passa in area 12.880 o meglio passava 12.880 circa 12.9 poi abbiamo visto nelle ultime giornate attraverso le ultime candeline su cui si sta formando tra l'altro una fase di incertezza momentanea delle quotazioni non mollano i mercati però non sono neanche così esplosivi ecco uno studio fatto classicamente potrebbe risultare potrebbe farvi avere un grafico uno studio del genere fin qua credo che tutti quanti ci siamo nel senso se masticate analisi tecnica non credo che ci siano tanto abiezioni a parte magari definire meglio qualche punto oppure obiettare su dei livelli però più o meno facciamo tutti così spero che giuseppe spero che non ci sia qualcuno che mi sta mandando male parole non ci sono domande specifiche perché comunque si è stato molto chiaro e quindi perfetto perfetto allora bene giro di boa e entriamo un pochino nel merito allora mi piace sempre di vederla così una buona analisi deve essere fatta su un'ampia view ok quindi dobbiamo osservare tutto un certo tipo di movimento allora per quanto riguarda un movimento cosa si va a guardare solitamente la sua estensione in quanto eventualmente tempo bene allora se guardiamo il concetto di prezzo si prende in considerazione un minimo e un massimo del movimento stesso quando c'è stato soprattutto un movimento direzionale poi alcune teorie vogliono inserire alcuni chiamiamoli indicatori anche se utilizzare i riferimenti di fibonacci non lo so quanto sia corretto dirlo chiamarlo indicatore beh a me sinceramente questo momento mi interessa aprirvi un attimino la mente a quello che poi sarà perché chi utilizza fibonacci a tutti i suoi livelli 0 23 6 38 2 50 61 e 8 quello che è poi c'è il 100 a me mi piace concentrarmi sul 50 per cento del movimento e richiamare la vostra attenzione su di esso perché perché tra l'altro se qualcuno magari ti balza la testa come sono fatte per esempio le bull flag o le bear flag o comunque sia le correzioni molto spesso ci accorgiamo che tali movimenti si arrestano sul 50 per cento dell'estensione del movimento precedente fatto dalle stesse quotazioni quindi vedendo un po questo concetto ho messo il primo ingrediente e quindi 50 per cento del movimento il mio primo step da fare quindi riconoscere quello ed è già un passettino in avanti perché qualora non si dovesse mettere poi l'altra parte quindi il secondo ingrediente che vi farò vedere nella prossima nelle prossime slide ecco già se uno analizza tutto questo movimento di mercato un movimento di correzione prendere un 50 per cento come riferimento sicuramente si stassi di secondo me si distresa molto molto meglio nei mercati può avere dei riferimenti in più e da lì analizzare un pochino meglio il fattore prezzo per poter cogliere magari gli effetti positivi o negativi insomma per il prezzo stesso futuri però prendiamoci questo 50 per cento e mettiamo da parte qua vi faccio una slide molto molto semplice ok questo è un grafico classico a me non mi interessa tantissimo come siano fatti qui c'è un andamento molto molto riassunto ai minimi termini un grafico a linea ma vabbè lasciate perdere poi lo vedremo sulle candele ma sulle barre se volete ma è indifferente a me quello che mi interessa in questo momento è preso questo movimento direzionale e fatto 0 100 la sua estensione io vado magari a dividerlo in step questo quadri 25 per cento 25 per cento quindi da 0 a 100 io mi faccio tutte queste classiche linee lo potete prendere tranquillamente sulla vostra piattaforma con fibonacci perché tanto 50 per cento ve lo fa vedere e a voi interesserà soltanto quello bene quindi a me concentro il mio focus sul 50 per cento e lo tengo lì ok primo ingrediente l'abbiamo visto mettiamolo un attimo da parte ci mettiamo il secondo vi ricordate all'inizio ho detto i grafici sono messi su due assi quello che mi quantizza il tempo e quello che quantizza il prezzo c'è chi fa analisi ciclica e si concentra sul tempo fa tutte le sue analisi io ho pieno rispetto non dico assolutamente che pro contro non mi interessa dico che che spostano loro la loro mediana dell'attenzione molto più sul tempo piuttosto che sul prezzo poi c'è chi dall'altra parte fa price action fa soltanto prezzo e non guarda il tempo e quindi come vi dicevo all'inizio prezzi asse temporale sono due concetti che possiamo unire ma secondo me sì non è male l'unione di questi due concetti bene allora sul discorso prezzo sui suoi riferimenti ne abbiamo parlato ne abbiamo parlato fino adesso abbiamo visto che 0 100 fatto io mi prendo questo benedetto 50 per cento come primo ingrediente a mia disposizione dall'altra parte ci sono da mettere in secondo me insieme un concetto abbastanza base del che magari fa più parte da appunto dell'analisi ciclica che non di dell'analisi sulla price action cioè prendere conteggiare il numero di barre o candele su cui è avvenuto quel movimento direzionale quindi solitamente si hanno nell'analisi che ne sono le onde di elliot come sono fatte 1 2 3 4 5 poi c'è abc però comunque sia si va a contare in quanto tempo è stato fatto quel movimento si va a fare una certa proiezione futura basata soltanto su quell'estensione temporale qui che fa analisi ciclica magari mi capirà abbastanza oppure mi capirà abbastanza mi capirà meglio di quelli che magari non l'approcciano ma non vi preoccupate non è un concetto così difficile io devo semplicemente andare a prendermi il mio grafico come ho fatto prima e adesso mi vado a concentrare sul fattore tempo quindi se io ho questo impulso questo impulso ha una sua durata che vedete delimitata da queste due linee rosse questo intervallo di tempo sarà il mio è la mia unità di misura come fanno magari credo i ciclici questa proiezione siccome devo guardare il futuro non devo fare altro che proiettarla in avanti della stessa quantità quindi non non faccio altro che duplicare l'andamento meglio l'estensione temporale del mio impulso in avanti tutto qua quindi sembrava un grande discorso quello fatto precedentemente ma non è niente di che cioè prendo l'estensione temporale del mio impulso direzionale e lo traslo in avanti bene graficamente e visivamente sono in tutto e per tutto queste nuove trend line chiamiamole così uguali cioè sono linee non sono curve sono identiche hanno semplicemente una particolarità oltre a concentrare in sé magari a unire questi concetti tempo e prezzo è sufficiente un solo punto per poter essere tracciate e per poter essere disegnate quel punto ovviamente credo che molti di voi hanno intuito sarà un punto di massimo di minimo significativo che ha dato magari via all'impulso precedente ok qua non ho capito come mai la piattaforma la presentazione mi ha sovraccavallato le righe però niente di preoccupante semplicemente questo questo concetto io l'unica cosa che io adesso vi raccomando mi raccomando è come sempre in tutte le fasi di analisi allenatevi io qua faccio l'esempio di una corsa di una gara di corsa serve l'allenamento serve una buona alimentazione serve riscaldamento pre gara e solo dopo si avrà lo start e quindi l'avvio di quello che sarà la mia gara la mia gara sarà il trade in questo momento ma per arrivare a fare il trade io devo fare tutto un processo di analisi fatto il più correttamente possibile ma non sono io a dirvelo se è corretto oppure no questo anche qua troviamoci un dubbio abbastanza abbastanza o meglio un falso mito non ci sono messia non c'è dio non c'è nessuno su nel mondo del finanziario ci siete voi è la vostra metodo di analisi e c'è il vostro modo di tradare ovvio l'elemento che vi dà il feedback più importante siamo in trading si parla di gain o di loss saranno i risultati allora fate allenamento provateci anche e soprattutto non soltanto a buttarvi a capofitto in qualsiasi cosa cercate di essere abbastanza appunto oggettivi in quello che fate e vedete se effettivamente il vostro allenamento sta andando bene se la vostra alimentazione sta andando bene e così via per arrivare ovviamente a tenere dei buoni dei buoni risultati bene allora qua adesso vi faccio sempre la solita figura cercando di dimostrarvi come si tracciano queste trend line quindi siamo sempre al solito punto ho un movimento direzionale fatto lo riconosco bene prendo la sua estensione temporale la definisco ok linee rosse quello che devo fare non è nient'altro che una proiezione in avanti quindi sposto in avanti il mio segmento temporale e qua ho fatto il primo 50% dall'altra parte metto l'ingrediente dedicato al prezzo giusto? quindi avevamo visto prima che tale movimento fatto 0-100 a me quello che interessa è il 50% ok dell'estensione del movimento precedente bene adesso che cosa faccio? io so che sull'estrema a sinistra ho il mio punto di minimo importante e che cosa vado a fare? vado a tracciare una linea che parte da quel minimo significativo e che va ad intercettare l'intersezione fra la prima definizione di intervallo temporale fatto dall'impulso stesso e il 50% dell'estensione temporale scusate del prezzo dall'altra parte la seconda linea che posso tracciare sicuramente è quella che mi va nel futuro ancora più avanti e cioè capirete bene che nella stessa maniera unisco il 50% del movimento con la proiezione futura temporale e quindi ho due riferimenti su cui io puliti il grafico come se la linea rossa e la linea celeste siano fatte con il lapis e soltanto la penna blu cancello tutto quanto e mi lascio soltanto le mie linee trend nuove che cosa farò? in questo momento come vi dicevo vado a seguire il trend quindi c'è stato un impulso adesso magari mi attenderò a una fase di correzione e sulla fase di correzione solitamente io che cosa devo cercare di fare? devo cercare di cogliere eventuali segnali di prosecuzione in questo caso rialzista di questo trend che è nato e che è in essere sul mercato bene, il prezzo magari correggerà corrigendo non è che ci va magari con una candela ci arriverà con una serie di candele su cui io posso andare a tracciare una trend line di quelle classiche unendo tutti i massimi decrescenti ok? qui ho tutto per poter dire ok, l'analisi è quasi fatta adesso che cosa devo aspettare? adesso devo aspettare il prezzo che mi faccia quello che mi aspetto ed è l'ultimo che vedete cioè la rottura rialzista di l'ultima mini trend line verde che vedete in questa slide su quello io vado ovviamente ad impostare cercare di creare la mia strategia con il mio rischio capitale con il mio rischio reward con tutto quanto tutte le volte riesco a fare un trade con questo metodo di analisi? no perché ovviamente i prezzi potranno essere fatti bene come magari mi piace a me ma ci sono delle volte in cui sicuramente il prezzo ha strappato in cui magari io non rientro nel rischio rendimento corretto io qua ho fatto una proiezione in cui dato che il mercato è corretto sulla prima trend line quella più alta mi dà già un'idea di quanto sia forte il mercato su questo concetto io la correzione che sto vedendo in questo momento che mi va a favore di trend mi deve spingere eventualmente ad operare come? cercando in questo caso di avere un target che sia molto molto vicino se non sui massimi precedenti quelli che si trovavano per esempio alla fine dell'estensione rialzista dell'impulso rialzista quindi anche lì come vado a riferirmi o meglio come vado ad impostare il tutto con questi tipi di riferimenti quindi ho il massimo precedente che quotano, lo so, euro-dollaro a 1,20 io qua mi trovo a uno che ne so, tutto quanto è stato fatto a 1,19 però magari io dovrei entrare con una figura di realizzo ma due di stop beh, per me, per esempio per il mio modo di operare non sono correttamente esposto qualora dovessi farlo perché non ho rischio rendimento a mio favore caso opposto avrei due figure magari da prendere contro una di stop bene, sono un rischio rendimento 1 a 2 oppure sono in un caso di rischio rendimento limite inferiore per l'operatività che è quello dell'1 a 1 rischio rendimento 1 a 1 con un money management fatto bene sicuramente può portare risultati positivi nel vostro portafoglio comunque questa è tutta la teoria adesso vi faccio vedere due esempi e poi visto che mancano gli ultimi 15-20 minuti poi Giuseppe comunque sia mi gestirà il tempo senza nessun problema vi faccio vedere e vi metto a disposizione vostra perché mi potete fare tutte le domande che volete possiamo andare anche a fare delle proiezioni insieme allora, primo esempio qua vedete l'esempio che ho fatto anche questo l'ho fatto oggi giusto per essere attuale questo è il risultato finale di queste trendline qua è l'oro il gold sulla piattaforma di Ticme tra l'altro ho visto che ha perfettamente toccato la seconda trendline allora a me non interessa tantissimo o meglio non mi devo far troppi problemi sul fatto che è stata rotta la prima trendline è andata sulla seconda sì, le due trendline mi stanno sicuramente ad indicare la forza del trend in corso sul caso della seconda trendline sicuramente il trend è meno forte di un possibile rimbalzo magari sulla linea numero uno facciamo così la linea più inclinata superiore è la linea numero uno e la linea numero due è quella meno inclinata e inferiore a me interessa semplicemente vedere se ci sono tutti gli ingredienti per far sì che questo tipo di analisi mi possa portare poi dei buoni risultati e dei buoni input per la mia strategia nei prezzi attuali poi magari li andiamo a vedere anche in diretta visto che l'ho fatto oggi pomeriggio si vede, credo, non mi ricordo l'orario comunque sia di... va bene così quello che mi interessa a me è vedere se ci sono tutti gli ingredienti per poter poi andare ad operare in questo momento se andate al break della trendline dell'ultima quella sempliciotta quella che vedete è indiscendente e i prezzi sono andati al suo break in questo momento potrei andare lì a definire che cosa c'è possibilità per me di entrare qual è il mio possibile ingresso vado a vedere dei segnali di pre-section aspetto una bullish candle non lo so io ve lo dovete auto chiedere perché c'è chi magari fa così e quindi attende un prezzo e un segnale dal prezzo è quello che magari faccio anch'io poi vado a vedere bene il prezzo mi è andato a non lo so 1295 avrei lo stop a 1261 ok perché poi vado a prendere lo stop lì sotto e quindi quanto devo prendermi di possibile take almeno per essere in un rischio rendimento 1 a 1 devo andare altrettanto sopra ci arrivo? va bene? non va bene? questa è l'impostazione che dovete dare voi poi alla vostra strategia io in questo momento vi sto dando un metodo di analisi che a mio avviso dà un ulteriore step in più soprattutto in trend following funziona sempre? è infallibile? no io come Francesco Cerullo ma io come Francesco Cerullo di Vision Forex e soprattutto gli altri elementi del team non sentirete mai parlare di infallibilità di una qualsiasi cosa che noi diciamo facciamo qua vi faccio vedere subito un esempio abbastanza attuale dollaro yen su un grafico weekly qua si poteva tranquillamente prendere da settembre 2016 a dicembre 2016 un forte trend rialzista un impulso bellissimo fatto in pochissimo tempo che aveva portato un rialzo di da 100 a 100 quasi 119 beh quindi insomma 19 figure ben fatte si poteva attendere sicuramente una correzione prima trend line numero 1 nuova rotta ribasso trend line numero 2 testata poi rivista un pochino fatto sta che anche congiungendo i massimi decrescenti fatti fino a quel momento io da lì non avevo secondo me possibilità per entrare ma comunque si avete visto poi che cosa è successo successivamente il prezzo è continuato a scendere o comunque si è a muoversi in lateralità tendenzialmente negativa quindi credo che l'infallibilità non esista in alcun metodo di trading di analisi e di quant'altro secondo me ci sono però buoni modi per poter analizzare il mercato sempre in maniera più approfondita avendo più strumenti a nostra disposizione secondo me si può tradare meglio questa era la fine ovviamente ringrazio per l'attenzione e vi rimando ai contatti non so Giuseppe tanto il tuo l'abbiamo già visto poi non so se posso far vedere anche Zito ma comunque sia sì sì fai vedere poi abbiamo un paio di domande sì ma adesso voglio imposto sulla piattaforma esatto facciamo qualche esempio operativo assolutamente sì comunque i contatti sono questi sia per quanto riguarda me che per quanto riguarda Giuseppe allora adesso con l'aiuto della tecnologia chiedo sicuramente vedrete un momento di stacco ma vado a condividere la piattaforma quindi chiedo a te Giuseppe se attualmente si vede la tua la piattaforma di Tickmill sì la vedo ok perfetto così almeno siamo 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 su euro dollaro ma vabbè sì euro dollaro che comunque combatte su uno diciotto e cinquanta quindi sì sì esatto non so cosa stia dicendo il FOMC ma ma insomma siamo lì a combattere con un livello piuttosto importante io ho fatto vedere degli esempi credo che non c'è cosa più più utile che risponda alle domande quindi se intanto mi vuoi leggere le domande allora una domanda è entri con una volta che si è creato il setup entri con degli ordini limit oppure aspetti un ulteriore partner di ingresso allora come dicevo prima a me piace sinceramente sempre attendere il prezzo ok quindi la configurazione del prezzo se c'è non lo so se devo cercare una posizione rialzista magari attendo una bullish candle fatta decentemente su un'area appunto data magari da tutto questo sistema di trendline e da lì operando su time frame allora io solitamente ho visto l'efficacia sui time frame almeno dal daily in su possiamo scendere ad h4 sui time frame inferiori diventa tutto un pochino più caotico quindi una volta che si è configurato questo tutto perfetto tutto quanto si con l'ordine limit lo lascio andare ordine limit con take e stop loss la size ovviamente deve essere fatta in maniera opportuna secondo il proprio money management e da lì si lascia andare poi il trade e tutto quanto va preso cura del trade come qualsiasi altro trade quindi spostamento a break even riduzione dello stop loss al 50% di quello che era magari inizialmente insomma seguire il mercato per quello che è per far sì appunto che il nostro trading sia il più efficace possibile perfetto quindi hai risposto anche a Silvano che chiedeva quale fosse il time frame migliore allora sì faccio un ulteriore approfondimento allora non è che queste trend cioè l'utilizzo di queste trend line si debba fare soltanto sul daily o sul weekly o sul mensile no qui dice comunque sia la legge del fatto che i riferimenti fatti e trovati opportunamente sui time frame superiori sono quelli che ecco sono un po' quelli più strong quelli un po' più forti credo che tutti quanti sappiano il fatto che se io mi metto qua sui 5 minuti ok io sui 5 minuti posso fare tutto quello che mi pare però devo rimanere sui 5 minuti e non muovermi superiormente cioè non posso andare sull'M5 M30 H1 a prendere a giocare con i riferimenti che ho trovato sull'M5 perché non hanno non hanno senso allora poi Daniele ci chiede allora un esempio di stop loss dove posizionarlo e un esempio operativo su Euro Yen e poi rispondiamo aspetta ripetemi questa domanda così almeno allora se puoi fare un esempio operativo su Euro Yen ok facciamo un'analisi al volo così vediamo cosa viene fuori non lo so ragazzi quindi io mi metto come sempre in gioco al volo non mi piace preparare niente ne ho preparati due giusto per farvi vedere il pro e il contro ma vediamo in diretta cosa possiamo fare allora dunque Euro Yen vediamolo un pochino sempre da lontano ovviamente ecco è un po' il mio tipo di approccio di analisi io parto dal daily vado molto molto indietro magari cerco di prendere addirittura l'ultimo almeno l'ultimo anno di riferimento beh credo che tutti quanti possano essere concordi sul fatto che questo qua ve lo faccio vedere ecco io prendo Fibonacci qua dalla piattaforma perché come vi dicevo prima è un 50-600 cioè là e quindi è abbastanza come si dice è abbastanza standard allora che cosa facciamo io ho messo qua sulla piattaforma lo strumento griglia su cui ovviamente ci da una mano perché perché ovviamente giocando anche un pochino eccoci qua con la griglia stessa io posso andarmi a prendere vediamo se non mi fa sto scherzetto che si muove sempre ok posso andarmi a prendere attraverso i quadratini ok i miei riferimenti non ci devo star lì troppo a girar su vediamo se riesco ok facciamolo così dai perché già visto che l'estensione temporale mi va sicuramente dopo allora estensione temporale quindi dell'impulso credo che tutti quanti lo possiate riconoscere in questo qua con la piattaforma potete fare due cose allora o prendete lo strumento puntatore tasto sinistro e andate a tenendolo premuto vi dice il numero di giornate che sono trascorse 113 ok oppure vi prendete riferimento appunto i quadratini della griglia e li contate purtroppo viene fatto così 3 6 9 12 14 e che cosa dobbiamo fare semplicemente dobbiamo andare vediamo se riesco a farlo così non ce ne sono 14 quindi devo andare sicuramente a riprendermi almeno per farlo preciso come vi dicevo prima avevamo visto che c'erano 114 era l'estensione di questo l'estensione temporale 113 per correttezza mi vado a prendere magari con lo zoom all'indietro e vado a riposizionarlo opportunamente poi vedete voi che magari posso anche giocare un pochino qua con col tutto per vedere se riesco a posizionarlo con con la griglia stessa insomma non cambia assolutamente niente qui ce ne sono 7 e vado leggermente in grosso modo comunque è chiaro l'approccio quindi poi solo dove posizioneresti un eventuale stop loss nel caso si si adesso lo vediamo allora prima trendline ovviamente passa qua giù vedete siamo ancora lontani dal prezzo perché comunque sia l'impulso è molto molto forte seconda trendline io la vado a tracciare sempre dal minimo importante qua giù più o meno va bene intanto in questo momento ci interessa molto molto poco poi come vi dicevo all'inizio vado semplicemente a cancellare tutto quello che non mi interessa perché fondamentalmente a me di tutto il resto non non ho bisogno e quindi vado a cancellare tutto quanto e vabbè l'ultima non mi viene da toglierla ma va bene così ok io sul mio grafico ho questo tipo di riferimenti quindi che cosa dovrei dire dovrei dire semplicemente che su euro yen per vedere sul grafico daily quello che sta accadendo beh ho molto spazio per potermi attendere una correzione ed eventualmente in area eh beh la prima area almeno dovrebbe essere questa questa qua vediamo se riesco a eccola qua quello che volevo fare ecco andando in proiezione a meno che di un un crollo che per il momento sembra molto molto eh molto molto lontano dal verificarsi ecco più o meno un'area possibile di correzione dovrebbe essere questa qua intorno ad area 129,30 ok quindi una volta che il prezzo arriverà lì eh io potrò andare a tracciare magari una trendline classica unendo i eh massimi decrescenti e poi dovrò attendere il tutto però vedete come sul grafico daily siamo molto molto lontani da questo tipo di riferimenti eh perché appunto l'impulso che c'è stato da aprile ad oggi su euro yen sia molto molto superiore addirittura a quello che c'è su euro-dollaro eh allora per quanto riguarda lo stop loss eh ma lo stop loss cioè ovviamente ma sempre dall'ingresso che poi andrai a fare su quel livello immagino esatto allora tutto per tornare sull'esempio di prima perché almeno faccio non voglio starvi a dar fastidio ulteriormente eh boh eh dunque prendetela così per buona perché io me lo ricordo che era più o meno fatta così ok la seconda trendline poi la prima se non ricordo male poi finalmente c'è la registrazione più o meno se non sbaglio passava di qua ok e quello che devo fare come vi ho descritto in precedenza è tracciarmi questa eh questa trendline semplice allora un possibile entrata in posizione allora qua c'è stata la rottura rialzista della trendline l'ultima quella che mi dovrebbe dare la conferma però a me poi piace andare a spulciare un pochino il prezzo a vedere la candela e vedete che la candela non è fatta bene a mio modesto avviso per entrare subito perché perché questa candela qua adesso prendo il puntatore questa qua che mi doveva confermare il tutto doveva essere una candela abbastanza bullish per me candela abbastanza bullish è quando ha la chiusura sull'ultimo quarto di estensione quindi sull'ultimo 25% come queste qua dietro magari da lì ovvio si configura il tutto e si potrebbe entrare poi successivamente a rialzo alla rottura dei massimi in questo momento per esempio giusto per portarvi un esempio sull'oro non c'è stata la configurazione ma facciamo finta che ci sia se io devo mettere il pending qua ok e siamo in area circa 1294 dollaro più dollaro meno bene sicuramente io vado a prendermi riferimento qua giù dello stop ok e vi sto dicendo che è un grafico daily quindi non è proprio un'operatività da 1 o 2 giorni ma magari io posso tenere l'operazione aperta per qualche giorno quindi prendo 30 dollari di stop da 1294 quindi dovrei tornare a 1294 scusate da 1294 che è il mio pen dovrei salire di 30 dollari arrivare a 1.324 secondo voi questo qua se può essere valutato come un possibile target fattibile la risposta mia è no giusto per dirlo fuori dalla riga perché perché semplicemente vedete qua come il prezzo aveva faticato in area 1.313 quando già era sia in salita su cui aveva fatto questa candela ovvio che io vado a parlare di candele di pre-section di movimenti stessi perché bisogna sempre essere più affinati bisogna affinarla un pochino non si può entrare così a caso qua c'era stato primo segnale di fatica vedete prima candela bullish c'è stato sì con la continuazione però poi durante il 29 di agosto c'era stato un falso segnale rialzista poi la giornata successiva eccetera eccetera e così via 1.313 era risultato essere un qualcosa in fase discendente invece vedete c'era stata l'allungo a ribasso poi una nuova correzione nuova lunga ribasso era tornato lì nuovamente il prezzo e poi era iniziata l'ultima fase discendente quindi qual trade è possibile farlo? io storgo molto la bocca perché vedo 1.313 come un livello importante su cui le quotazioni secondo me potrebbero andare a scontrare prima di arrivare al 1.324 quindi faccio proprio un esempio classico su cui pending messo a 1.294 1.295 il possibile target rispettando un rischio di vuote 1 a 1 ovviamente andando a prendermi lo stop qua giù deve essere questo livello qua e vado a vedere se si può fare magari in questo caso non si può fare perché secondo me c'è degli ostacoli precedentemente fatti dai prezzi non me la sono preparata quindi vado a vedere su altri strumenti se ci sono occasioni ma se ci sono domande invece preferisco rispondere a quelle sì sì no infatti ce n'è un'altra allora aspetta che le leggo cronologicamente allora vi ho girato il link per chi mi ha chiesto per le analisi dei retail dove vengono pubblicate su un canale telegram aspettate che ve lo rigiro perché sa che non è andato preparati francesco perché c'è un'altra domanda allora la seconda trend line allora c'è aspetta Alessandro chiede non ha capito come viene tracciata la seconda trend line ah però adesso mi scrivo ho capito ok quindi possiamo possiamo andare avanti puoi spiegare come mai la candela su gold non è buona per l'ingresso credo che tu l'abbia spiegato il perché perché non è abbastanza bullish e poi mi sei imparato di capire che non ci sia nemmeno risk e reward giusto? sì esatto ok assolutamente sì Silvano dice non sarebbe meglio aspettare un ritracciamento non so a cosa faccia riferimento forse su questa rottura forse un ritracciamento dopo la rottura si è prendendo dopo la rottura ok attendendo un ritest qua giù allora ovvio che se si attende un ritest e cioè un ritest vedete quanto è ripida poi la decisa fatta quindi arrivare a un ritest praticamente significa andare quasi a ritestare i minimi precedenti e quasi a ritestare anche la trendline a me a quel punto vengono ancora più dubbi sull'efficacia ma non l'efficacia dell'efficacia del rimbalzo e quindi della continuazione rialzista per quello che ha fatto vedere l'oro l'oro per me se adesso inizia a stornare nuovamente e scende ancora giù verso area 1275 e 1270 beh mette sinceramente mette pericolosamente a rischio questi minimi fatti nelle ultime giornate e lì mi preoccuperei un attimo perché allora potrebbe dire che c'è una nuova fase di discesa qui ovviamente si spazzano via tutte queste trendline non si guarda più nulla e magari si attende una correzione ancora più profonda quindi in questo caso diventa un cambio trend e l'oro potrebbe scendere ben più in basso quindi quello che voglio far capire è che come come concetto come concetto l'ho ripeto ancora una volta questo qua è un tipo di analisi che si cerca di fare per prenderci il trend follower cioè il trend following quindi voglio andare a seguire un eventuale trend qua nonostante ci sia effettivamente una correzione piuttosto profonda vedete quell'impulso che c'era stato precedentemente da area 1.2 e 10 aveva riportato l'equatazione a 1.350 sui massimi qua su c'è stata una correzione abbastanza profonda il test e le bullichendo che si sono presentate qua in area 1.2 e 70 1.2 e 65 hanno fatto sì che ci sia che stia partendo un possibile rimbalzo rimbalzo però deve essere poi abbastanza ora non deciso che nel giro di due giornate deve arrivare a 1.3 e 30 al prezzo dell'oro però comunque sia ci deve essere una buona propensione se poi si iniziano a generare tante candele dove tutti i corpi candela piccoli soltanto l'over e l'huppershadow quindi c'è molta incertezza ovvio che tutto tutto diventa diventa illegibile non diventa gradevole da fare ok allora ci sono un altro paio di domande però credo che tu abbia risposto ci saluta Giuseppe Roccasalvo grande c'era c'era è arrivato dalla tv non molla mai ciao ciao direi Francesco che possiamo chiudere il webinar perché siamo andati oltre l'ora se avete comunque altre domande abbiamo dato i contatti vi ho girato anche poi il gruppo per le analisi retail Francesco se vuoi ripetere il tuo sito Vision Forex per se posso io faccio vedere sia ti che il sito di Tickmill così magari se mi vuoi ricordare qualcosa a te e poi faccio vedere anche sì sì assolutamente sì allora vediamo dammilo ok che si veda adesso il sito di Tickmill sì ok il sito si vede per solo per il conto di benvenuto andate su promozioni da lì potete scaricare per avere i 30 dollari in omaggio poi sì puoi far vedere anche il tuo video il tuo sito assolutamente sì semplicemente www.visionforex.info trovate l'home page trovate abbastanza semplice come sito non lo saputo ma per chi ci segue o per chi mi ha incontrato per la prima volta questa sera credo che della semplicità facciamo il nostro punto di forza vediamo se si apre eccolo qua semplicemente potete venire sul nostro sito ci sono tutte le varie sottomenu soprattutto se vi interessa contattarci c'è la sezione in basso scusate in estrema a destra qua giù appunto sulla sezione contatti questo è il nostro sito vedete un pochino le nostre attività sono quelle gratuite del mercoledì e della domenica e poi ci sono tutte le altre le altre sezioni dove potete trovare riscontri per poterci per poterci venire a trovare per poterci contattare e quant'altro io ripasso la parola a te Giuseppe prima dei saluti finali ripassando poi anche la visione del sito e dell'home page di T-1000 sì grazie Francesco allora chiudiamo il webinar grazie a tutti per aver partecipato e ci vediamo nei prossimi appuntamenti con T-1000 grazie a tutti grazie a tutti